...ma biondo! ...dai, porca madonna! Mister, all'ultimo minuto! Presa, la prendiamo subito... ...l'ultimo minuto, una gioia indescrivibile! Sicuramente, la squadra che è partita purtroppo non bene, ma strada facendo ha trovato i suoi equilibri, ritmi e sono contentissimo stasera per tutti quanti, chi ha giocato e chi non ha giocato, soprattutto loro meritano questa vittoria grazie a tutti, è stata una bellissima cosa questa sera Dopo le prime due giornate sembravate quasi eliminati e invece adesso vi giocate una semifinale incredibile Sì, guarda, adesso andremo incontro a questa semifinale, ci prepareremo nel miglior modo possibile le prime due partite conoscendoci così poco o meno meglio, è stata un po' difficile però ecco, dopo la terza partita, la quarta, abbiamo trovato i ritmi, abbiamo vinto e anche stasera è arrivata questa vittoria importantissima meritano tutti i ragazzi, sono condividi In bocca al lupo allora! Crepi a tutti quanti, in bocca al lupo!